Salve a tutti, io sono TheLongGamer e bentornati su VoidTrain. Oggi modifichiamo completamente il treno che diventa uno spettacolo. Poi otteniamo nuove chest completando strane sfide, combattiamo contro altri nazisti armati fino ai denti e troviamo addirittura altri roflimo. E cerchiamo anche di sopravvivere mentre calano le tenebre. Buona visione! Ehi là! Ciao Franco, ascolta... Senti, dobbiamo parlare di una questione importante. Io sono una persona paziente, disponibile, gentile, tutto quello che vuoi ciccio, ma devi cominciare a darmi una mano. Porco cane, questo treno non è un albergo, non posso far tutto io da solo. Siamo pieni zeppi di chest, materiali da riordinare, cose da craftare. Franco, te e tuo cugino laggiù, non fate un cocchio tutto il giorno. Mi capisci, Franco? Franco? Ciao Franco. Ma ho dei dettagli. Fatto sta che gente davvero non so più dove mettere sti cocchio di oggetti. Stavo cercando di craftare qualche altra chest in cui mettere tutti i materiali che abbiamo raccolto negli scorsi episodi, ma sto cominciando ad avere numerosi problemi. Allora, datemi un secondo che intanto svuotiamo anche queste. Franco, non tirare su col naso, marrone. Mi fai fare di quelle brutte figure con gli iscritti. Franco, la mano davanti almeno. Ok, questa è piena. Anche questa è qua di piena. Che schifo che mi fai, Franco. Ma vabbè, dettagli. Ah, mamma mia. Chi l'avrebbe mai detto che gestire un treno sarebbe stato così difficile? E in verità, gente, siamo anche fortunati perché abbiamo trovato una quantità spropositata di risorse e pertanto non abbiamo mai dovuto patire la miseria. Allora, datemi giusto un secondo che nel frattempo vedo di distruggere piano queste chest. C'ho un cago incredibile di sbagliare a cliccare che voi non ci avete idea. E voilà. Ecco qua. Franco, non è poi così difficile, ciccio? Le zampine ce l'hai anche tu? Sì, vabbè. Quello starei a mangiare e a cacare tutto il tempo. Allora, mi sono accorto che c'è un pezzo di carbone, piccolo stellino, che non avevo recuperato nello scorso episodio. Oh, perfetto. Con questo possiamo ottenere una quantità spropositata di carbone. Eh, ciò se lo vuoi prendere? Grazie, hai detto così suona male, ma ci siamo capiti. E lo convertiamo in pezzettini di carbone che non so perché sono più piccoli del pezzo grande. Ma vabbè, dettagli. Ok. Nel frattempo volevo inserire all'interno di questa chest tutte le risorse necessarie a craftare i waterbidon, ovvero i contenitori d'acqua con cui alimentiamo la nostra locomotiva. Aspè, che mi serve? No, no. Eh, pick up. No, devo prendere la chest. Scusi, devo prendere la chest. Oh, ecco qua, mi servono questi contenitori. Aspetta, che non c'ho spazio. Gioco, non so perché ogni tanto prendi le risorse proprio così ad cocchium. Pertanto scarichiamo qua un altro po' di componenti chimici instabili. E con questo di solito riesco a farmi uno sproposito di waterbidon. Non fate caso al disordine a terra gente, lo so, è un mezzo disastro. Dobbiamo che andare avanti con le varie ricerche. Abbiamo... Oh! Il fertilizzante. Eh, non è poi così utile, ma dobbiamo comunque sbloccare tutte le ricerche per poter proseguire. Di solito le piante ci mettono tre minuti a crescere. Presumo che col fertilizzante ci impiegheranno meno tempo. E abbiamo bisogno di quattro unità di fertilizzante per sviluppare la crescita accelerata. Che presumo ci permetterà di ottenere una quantità maggiore di frutta e verdura direttamente dai nostri orti. Uh, dobbiamo che sbloccare la trazione di secondo livello, però mi richiede della gomma. E possiamo anche migliorare la nostra caldaia. Ecco, questo lo posso fare. Non è un grande problema. Beh, quanta roba ho nell'inventario. Decisamente troppa. Qualcuno mi spiega perché c'è del filo di ottone nel container del cibo. Ah, c'è un finta di nulla Lonino. Perfetto, intanto abbiamo altre bistecche. Il problema è che questi contenitori sono completamente pieni. Tuttavia, mi porto via gli anelli da lancio perché ci serviranno tra poco. Perché ho visto che poco più avanti ci dovrebbe essere un'isola della strega. Quell'isola abbastanza strana e dall'aspetto mistico. Che abbiamo già visto negli scorsi episodi. Qui invece abbiamo ottenuto dell'ottone e anche del ferro. Ma ho di nuovo l'inventario pieno. A questo punto, sentite, facciamo una cosa tattica. Craftiamo un ulteriore chest di secondo livello. Quindi con 5 slot dell'inventario. E all'interno ci mettiamo tutte le risorse un po' più rare. Che cosa buona e tanto giusta. Come ad esempio i lingotti di ottone. I lingotti di acciaio. E chi più ne ha più ne metta. Che mi pare effettivamente la tattica migliore. Ok, recuperiamo anche un po' di legna. Perché vorrei anche mettere qua davanti una chest con tutte le risorse per invece alimentare il nostro motore a vapore. Facciamo anche una cosa tattica. Il banco per la ricerca. Casomai lo possiamo spostare in un'altra zona. Tipo qua dietro. Tanto non è che lo utilizziamo ogni 5 minuti. Oh, perfetto. E così facendo adesso la zona è decisamente molto più libera. E ci possiamo piazzare un ulteriore chest. Sì, ho i materiali. Perfetto. Di secondo livello. Per adesso la buttiamo lì a pavimento. È inutile mettere un contenitore verticale. Perfetto. E ci mettiamo il water bydon. E dopo eventualmente tutto il carbone che abbiamo raccolto in giro. Ok, nel frattempo vediamo di ripartire. Dobbiamo giusto fare qualche metro in quella direzione. Grasso, non ti utilizzo più, santo cielo. Sto cercando di dimagrire per adesso. Qui invece abbiamo il nostro pezzo di carbone. Recuperiamo un po' di ghiaccio. E ovviamente ho l'inventario pieno. Beh, sposta quel ghiaccio. Metti questo qua. Fate attenzione che le lucciole sono poco davanti rispetto a noi. Fatemi ottenere quindi quel bricchette di carbone. Che cosa buona e tanto giusta. Le ho individuate mentre preparavo l'episodio. Quindi vediamo di raggiungere l'isola. Perché in effetti qualche altra chest ci potrebbe far comodo. Ci aspetta veramente un lungo viaggio. Datemi giusto un attimo. Che recuperiamo questo pezzo di carbone. Dimmi con ancora spazio nell'inventario. Poco. Dice gioco. Ne hai veramente poco, Lon. E continuo intanto a craftare i waterbidon. Solo uno? Oh, è vero? Ogni waterbidon richiede 5 unità di ghiaccio sporco. Recuperiamo anche dalle varie chest il resto dei coal bricchette. Perfetto. Tutto il carbone compresso che abbiamo craftato. E voilà! Ottimo, ottimo, ottimo. Decisamente molto meglio. Ora è tutto più ordinato. Allora, potremmo anche partire all'avventura. Non c'è neanche bisogno che io svuoti il mio inventario, tecnicamente. Assicuriamoci solo di aver mangiato e bevuto a sufficienza. Non vorrei rimanere fregato durante il viaggio. E voilà! Ok, incrociamo le dita e abbandoniamo il nostro treno. Teniamo fuori sti cocchio di anelli. E vediamo di non far pirlate! E la fai! Dovrei aver prolungato sto cocchio di coso, quindi si dovrebbe ganciare più facilmente. La mia vita è una cocchio di menzogna. Vediamo un po' di non sprecarli tutti. Ok, qui mi posso ganciare su sta strana pianta in cui prima o poi mi ci conficherò male. Dobbiamo sempre andare verso il basso. Ok, vedo l'isola. Perfetto. Lancio lungo! Ok, non ho fatto un po' di atto delle mie. Ok, la corda è decisamente molto più lunga di prima. Ok, sembrerebbe la stessa isola che abbiamo già incontrato in passato. Ma ne dovrebbero esistere più versioni. Aia, mi sono fatto malissimo. Vediamo un po'. No, no, no. È differente invece. Abbiamo una casetta lì. Forse una laggiù. Direi di andare per adesso da quella parte. Allora, vediamo di creare diversi punti in cui agganciarci. E speriamo di non sprecare materiali. Ahah! Eccolo lì dentro! Vai! Sfondo di prepotenza. Buongiorno, scusate. Non fate caso a me. Per adesso non ho incontrato nulla di così interessante. Oh, oh! Direi che abbiamo raggiunto la zona principale. Ti prego, dimmi che ti attacchi. Manco a sto cocchio. Oh, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta incredibile, ma vero? Devo essere arrivato proprio giusto, giusto. Oh mio Dio. È giganterri in questo posto. Maronne, cioè... Non ho capito perché mi devo per forza spostare agganciandomi a qualcosa. Tanto sto tizio... Oh! Riesce a muoversi normalmente. Allora, abbiamo la docile creaturina laggiù. Teniamo gli occhi aperti e individuiamo le... Ah, ecco qua. Le piastre a cui dobbiamo sparare. Qui ad esempio c'è un bicchiere. Ok, abbiamo punti di aggancio letteralmente dovunque. Oh, che strana che è sta sfera! Mi fa un sesso incredibile. Ok, ancora una volta dobbiamo trovare i cinque o sei suoni. Salve, creaturina! Sento rumori veramente molto strani. Sembra anche più complicato del solito, ma vabbè, dettagli. Allora, vediamo di entrare qua dentro. Aia, aia! Sono fatto malerrimo. Ah... Cos'è sta roba? Donne? Quando c'erano dei draghi? Ma vabbè, dettagli. Perfetto, ho gironzolato tre quarti di quest'isola e ho trovato tutti i simboli. Ma ovviamente non sono quelli corretti. Questa volta è molto più complicato del previsto. Tuttavia ho notato che la maggior parte delle isolette ha un punto d'appiglio. Quindi in un modo o nell'altro... Riesce ad andare avanti e indietro senza troppi problemi. Aspetta che torno dalla... Oh, c'è la creaturina! Ammetto, sti enigmi non se ne sentiva il bisogno, eh. Preferivo affrontare mostri nell'arena. Ok. Oh, finalmente l'ho risolto. Poi ho capito che c'era il rumore di gente che combatteva, gente che beveva e via dicendo. E abbiamo finalmente un'altra chest. Piccola stellina. Bella questa. No, gioco cortesemente. Mettila dietro. Perché non l'ha messa dietro? L'ho detto mettila dietro. Buongiorno, riesco a vedere dentro la chest. Cos'è successo? L'ho buggata? Ok, se premo X. Perfetto. Ora è tornata dietro. In teoria io dovrei comunque poter tenere in mano una chest mentre mi muovo. La cosa strana... Prendate che... Ok, raggiungo questo punto. E che... Direi che c'è un'altra chest da recuperare. Forse anche laggiù. Allora, vediamo se riesco a... Trovare o creare un percorso. Aspetta, lanciamo gli anellini. Che mi permetta di raggiungere la suddetta zona. E dai, lo so che puoi aggrapparti. Sei viola? Oh, bravo. Grazie, eh. Sì, senza fretta la prossima volta. Ok. Ci stiamo avvicinando. Sì, è praticamente lo stesso enigma. Aspetta, dovrebbero esserci. Perfetto. Punti d'appiglio letteralmente dovunque. Quando vuoi, eh. C'ho tutta la giornata. Oh, questo è differente. Cos'è che vuoi dalla mia vita? Questo è tanto differente. Sono delle... Sorte di totem. Oh. Aspetta un attimo. Questo l'ho visto nel trailer. Il tizio praticamente rifletteva la luce attraverso le varie statue. Eh beh. Sono tante statue. Andiamo per ordine. Innanzitutto vediamo di ruotare questa. E presumo di doverla tipo puntare lì. Ok, ora molla. Mi raccomando senza muoverla. E la prima parte l'abbiamo fatta correttamente. Eh, devo trovare quindi un'altra statua che si è accesa probabilmente. Oh no. Comincio a credere che sia molto peggio in verità. Probabilmente dobbiamo riflettere la luce. Oh, sì. Era molto peggio di quanto mi immaginassi. Quindi, allora. Aspetta un secondo. Ora dobbiamo andare lì. Questo l'ha praticamente raddoppiata, come potete vedere. Ora possiamo rigirare il fascio. Portandolo più o meno sia qui che là. Ok. Si sta articolando veramente un bel po'. Ma tutti li possiamo ruotare? No, non tutti. Devo fare attenzione io stesso a non andare davanti al fascio di luce. Il problema è che qua c'è un oggetto davanti al raggio. Però non lo posso spostare. Eh, ma dai. Ma c'è la bocca lì dietro. Porca di quelli per porca. Ma è una truffa di proporzioni bibliche. Ok, proviamo casomai a ridirigerlo verso un altro punto non meglio identificato. In questo caso ho spaccato delle travi che impedivano al fascio di luce di passare. Aspetta un secondo che mi aggrappo in giro. Quando è in secondo gioco, eh. Senza fretta. Tuttavia... Oh mio Dio, il raggio si è ingrandito parecchio. Quindi possiamo puntarlo verso di lì. E verso di là. Ti è stato tipo un raggio laser. Cos'è sta roba? Aspetta un secondo. Probabilmente può tagliare cose. Non lo so nemmeno io. Vediamo un po'. Uh, è diventato rosso. Ma ignoro il motivo e... Possiamo solo puntarlo verso quella strana statua laggiù. Credo che lo scopo finale sia per l'appunto illuminare le suddette statue. Però adesso dobbiamo interagire con quest'altra statua. Perfetto. La giriamo. Ma non la posso alzare più di tanto. Allora aspetta, possiamo fare così. Eccola. Ok. Decisamente molto meglio. Abbiamo comunque portato la luce direttamente alla zona di prima. Tuttavia devo capire come raggiungere la prossima statua. Perché c'è qua e per quel cocchio di oggetto davanti. Non lo possiamo proprio spostare. Oh, aspetta. Aspetta. Si è mosso. Si è mosso. Si è mosso. Oh. Meno male. Parco cane. Tre ore che gli sparo e alla fine avrei dovuto usare il mio bel corpicino. Quindi se facciamo così. Dimmi che l'ho risolto. Ti prego dimmi che l'ho risolto. Perché sono qua da mezz'ora praticamente. Ok. Ho visto che il totem si è mosso per una frazione di secondo. E oh. Ti prego fammi portare via quella cocchio di chest. E voglio andarmene alla velocità della luce. Perfetto. Mi posso comunque rampinare in giro. Sì. Anche se non riesco a vedere nulla. Ok. Cerco un modo per ritornare indietro gente. Mezz'ora solo per risolvere questa serie di enigmi. Ma c'è la fitte di nulla che è meglio eh. Aiuto. Non vedo nulla. Signori non ve lo nego. C'è stato un momento di panico. Perché praticamente avevo la chest in mano. Ho premuto Cooper per prendere gli anelli. E la chest era sparita. Mi sono detto. Oh no. Oh no. Ma dove è finita la chest? Ho ripremuto Cooper per mettere via gli anelli. Ed è ricomparsa la chest. Ma lì per lì. Mi sono caccato profondamente gente. Parecchia cacca è stata versata nelle mie mutande. Non dico altro. Ritorniamo indietro che è meglio. Ah. Il mio bellissimo treno. Maronne quanto è lungo peraltro. Cioè non lo dico spesso. Ma obbio dettagli. Allora aspetta. Lancio un ultimo anello. Non me ne frega niente. Sono stanco. Non mi ricordo che strada ho fatto prima. E mi ragganciate. Aspetta vediamo di tornare a bordo manualmente. E vi sarò tutti felici e contenti. Mettivi a questo. Perfetto. E per adesso. Piazziamo un'altra chest. Direttamente qua. E. Dov'è la chest dietro? Gioco. Gioco mi ha desponato una chest. Aspetta un secondo. Ripremi Q. E io sto provando a ripremere Q. Ma non. Oh no. Oh no. Si è bugato. Alla fine avevo ragione io. Si è bugato. Quindi una chest me l'ha desponata. Ma parchi di quella suprema porca. Ho trovato un altro bug. Non sono in delunghi di mercenari che ho bugare i videogiochi. Quindi ogni volta devo ritornare indietro. Signori. Facciamo finta di nulla che è meglio. Vediamo di raggiungere la prossima stazione. Ci ho sprecato troppo tempo. L'importante è che abbiamo capito. Wow wow wow. Ho attiato il post bruciatore. Non era quello che volevo fare. Ci consumirà uno spavolito di risorse. Vabbè. Raggiungiamo prima la stazione. L'importante è quello. Vai mio piccolo trenino. Sprinta via a tutta velocità. Sento cielo. L'incazzatura suprema che mi sta salendo. Allora. Vediamo di sbloccare. Casomai qualche altra ricerca. Perché abbiamo bisogno di lingotti di acciaio. Tubi di ottone. Tutte cose che abbiamo. Mi ero craftato prima dei lingottozzi di acciaio. Credo che fossero qui. Perfetto. Piccoli stellini. E li possiamo direttamente convertire in un paio di viti rinforzate. Ui la la. Guarda quanto sprintiamo. Non si è sentito il rumore però. Dai che una truffa. Ok. Speriamo di raggiungere la stazione rapidamente. Perché voglio assolutamente migliorare il nostro bel trenozzo. Speriamo che non ci sia. Aha. Me lo sentivo che sarete spuntato. Piccolo bastardo. No. Più alto alone. Ok. Perfetto. Rischiamo di schiantarci male male. Eeeh. Guarda adesso quanto pista via. Ma che spettacolo. Allora. Ritornando a noi. Vediamo di rifornire un attimino il nostro treno. Perfetto. Con che lagone. Che non me lo dici. Vuol dire che stiamo arrivando. Oh. Sì. Siamo proprio arrivati. Che cosa buona e tanto giusta. Allora. Stavo finendo di recuperare tutte le varie risorse. ovvero i tubi. E i cosi lì a sfera. Aspetta un secondo. Che state facendo voi altri? Facciamone i giri. Li ho visti. Non è che. Facciamo. Non fate finta di nulla sotto cielo. Allora. Mi servono questi. E i tubi. Aspetta che ho l'inventario pieno. Quindi metti saratoga e il silicone sigillante direttamente lì. E finalmente possiamo sbloccare anche la prossima ricerca. No. Ma non ho preso le viti. Non ho preso le viti. Le ho lasciate sul banco da lavoro di secondo livello. E adesso possiamo sbloccare effettivamente il potenziamento per il nostro treno. Perfetto. Lo volevo vedere. Aspetta. Aspetta. Vediamo un po'. Oh. Che spettacolo. Adesso abbiamo una locomotiva serissima. Aspetta che il treno sta anche. Oila. Andando troppo rapidamente. E appena possibile volevo anche sbloccare la trazione di secondo livello. Però mi servono gli ammortizzatori e cinque unità di gomma. Allora la gomma è un po' un problema. Perché mi servono quelle cose acide che abbiamo trovato lo scorso episodio. Ribadisco. L'on devi svuotare in vendario. Quindi piazziamo effettivamente i lingottozzi direttamente qui. Che se no li perdo. Perfetto. Oh. Aspetta. Arrivo. 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 Scusi. Mi ero dimenticato. Perdon. Ecco fatto. Speriamo che i nazisti di Trenitalia non ci siano. Tendendo all'interno. Perché non ho con me le munizioni. Le ho scaricate in una delle varie chest. Ma mi sfugge esattamente su un quale. Buongiornissimo. Oh è grande. Li ho visti. Ah. Mi stanno sparando. Aspetta. Aspettate. Un attimo di pazienza. Ho capito che c'è il tuttozzo di secondo livello. Un attimo. Scusi. Passi pazienza. Che ricarico l'arma. Sia un dipendente di Trenitalia. Molto magnanimo e paziente. Ok. E neanche tanto paziente. Di certo è morto. Ok. Devo ritrovare la cesta. Devo ritrovare la cesta. Era in una. Aia. Di queste. No. Non è questa. L'ho trovata. L'ho trovata. Aia. E stanno a spara male. E stanno a spara male. Signori. Buongiorno. Buccatevi tutto il mio lancio a granate. Oh. Ehi là. Or. Coccane. Però sparano pesantemente anche loro. Aspetta. Sono gli figli esattamente. Ok. Un po' di danni gli fa comunque ad aria. Meglio che nulla. Aspetta. Aspetta. Vi ti licenzo tutti. Santo cielo. Spettacolo. Perfetto. Fuori due. No. No. Ho detto no. Stati. Stati fermo che mi metti ansia. Porca di quelli per porca. Mi hanno droppato un po' di proiettili. E ho visto anche dei token. Gli posso fare arrendati i token che poi si desponano. Il The Long Gamer piange nel profondo. Perfetto. Qualcuno si è dimenticato. Un pezzo di pistola volante. Sono cose che capitano. Siamo pur sempre nel vuoto. Ok. Teniamo gli occhi aperti. Ui lala. Vai vai vai. Chi è che spara? Mi sono cagato in mano. Signore. Guardi che sono qui. No. Porca di quelli per porca mi stanno sparando da dietro. Aspetta. Ok. Eliminato anche questo. Dado. Uh. Guardalo qua il piccolo stellino. Che precisava di essere più furbo degli altri dipendenti. Ok. Grazie. Questo token lo prende papino. Perfetto. Guarda pezzi che stanno droppando. Però sì. Gioco. Mi merito un aumento dell'inventario. Porca di quelli per porca. Dove poi sono finito santo cielo? È giganterrima sta zona. Uh. Gioco. Mi sono completamente perso. Speriamo che ci siano risorse rare. Oh se siamo fortunati. Anche una bella cesta. Loro in teoria non mi possono danneggiare il treno. Vero? Wow 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 wow. Buono. Buono. Vai tranquillo che ci sono proiettili anche per te. Li ho tenuti da parte. Piccolo stellino. Stai fermo. Stai fermo. Stai fermo. Ando schiappi. Potevate evitare di attaccarmi. Ok. Altre parti per il revolver. Aspetta un secondo che c'è ancora qualcuno. Ehi. C'è un sacco di gente che spara. Per mia fortuna i proiettili in questo gioco. Non costano neanche troppo. Aspetta che non ho pochissime le placche. Però sì mi stanno facendo pochissimi danni. Vai così. Perfetto. Ando state. Eccomi qua. Perfetto. E moreci male. Oh. E mo basta veramente però. Tanta gente c'è ancora. Ricarica ciccio. Ricarica. Eilala. Buongiorno. Non avevo visti. Fuori. Fuori. Aia. Aia. Due. Perfetto. Non ho più morto. Ok direi abbastanza morto. Mi ha droppato un altro fucile. Chi altro che spara? C'è ancora gente. E' giganterrimo per davvero. Mai vista una stazione del genere. La cosa strana è che il gioco mi dice di trovare l'artefatto. Aspetta c'è una. Oh. In effetti dobbiamo andare direttamente lì. E c'è anche un altro roflimo. Ah ma guarda che carino. E basta. Ho capito. Manchi probabilmente solo tu. Hai rotto un po' i maroni. No non era l'ultimo. Ma per davvero. Ma la vogliamo smettere. Scusi guarda che sono dietro di lei. Buon uomo. Fatti che ricarico. Porti pazienza. E sono scritto da lei. Finiti i colpi? No no finiti i colpi. Gioco non mentire. Ok intanto abbiamo eliminato il tizio. Che cosa buona e tanto giusta. Non so perché non mi ricaricava l'arma. Ah. Spavento. Ricarica razza di idiota. Ok. Adesso posso sparare di nuovo. Oh. Questo quello uber pesante. Ok. Infatti mi stanno facendo parecchi danni. Oh. E mora c'è. Ah. Ah. Che spavento porco cane. Ma ho finito il cibo e acqua. Qualcuno si è compenetrato male. Il lato positivo è che hanno droppato. L'infinite oltre di risorse. Maronne. E questo è l'artefatto. Oh. Sembra importante. Cosa me ne faccio? Dobbiamo piazzarlo praticamente sulla parte frontale del treno. Vediamo un po'. Quindi lo metto qua. Eh. Ho fatto cose giuste. Gioco. Cosa me ne faccio? Praticamente il gioco mi dice di recuperare le profezie dalle chest. E anche in giro per i depositi. Le possiamo mettere all'interno. Di questo artefatto. E dice che per ogni effetto negativo di una profezia. Riceverò un effetto positivo. Ah. Non ho capito più di tanto. Ma vabbè. Dovremmo investigare. Appena possibile. Allora. Andiamo per ordine. Recuperiamo anche Roflimo. Numero. Eh. Quattro. In questo caso. Siamo pieni. Zeppi di franco. Questo in teoria lo possiamo piazzare. Sull'ultimo vagone. Guardi signore. Intanto la appoggio direttamente qua dietro. Porti pazienza che non vedo praticamente nulla. E lascialo lì. Speriamo abbia un comportamento diverso. Rispetto agli altri franco qua. Che sono praticamente inutili. Eh beh. Si chiamano franco. Non a caso. Nel frattempo abbiamo anche il tavolo sacrificale. Ah. Non ho visto la slot machine. Però ho visto te. Piccolo stellino. Vieni da papino. È un'arma differente. Mi domando se possiamo smontarle le parti. E caso mai. Inserirle sul nostro mitagliatore. Ci sono parti dovunque. Come faccio a scegliere quali sono buone. Quali sono cattife. Ok. Bando alle ciance. È giunto il momento di recuperare le nostre chest. E scoprire cosa c'è all'interno. Non saprò mai cosa ci fosse all'interno della chest. Che il gioco mi ha gentilmente bagato. Ma vabbè dettagli. Ok. Apriti il sesamo. E voilà. Ci c'è chi e ci c'è là. Oh. Hai droppato uno sproposito di materiale. Abbiamo anche delle nuove piante. Molto molto bene. Quest'altra chest invece è molto più rara della precedente. Quindi se siamo fortunati dovrebbe dropparci dell'ottimo bottino. Vediamo un po'. Ok. Sembrano tutte risorse abbastanza standard fino adesso. Aha. Ti ho trovato. Oh maronne. No. Non era quello che stavo cercando. Possiamo ottenere una profezia così a random. Spero sia una profezia buona. Dopo vengo a recuperarla. Mi ha inquietato. Ho l'inventario pieno. Intanto facciamo girare anche la ruota della fortuna. Vediamo un po'. Oh. Un altro token. Ma che gentile. Guardi. Praticamente non abbiamo speso nulla. Ti però datemi cose utili. Un'altra profezia. E basta con queste profezie. Ma che cocchio. Quindi dobbiamo praticamente cercare le profezie negative. Dice il gioco. In modo tale da ottenere bonus positivi. Era abbastanza bizzarro in effetti. Oh. Abbiamo ottenuto anche dei semi. Un'altra profezia. Ma che è una collezione di profezia quest'oggi. E purtroppo per me abbiamo finito i token. Ah. Settinummi. Allora. Fatemi ritornare un attimino a bordo. Perché è giunto il momento di dar da mangiare un paio di funghetti. Ai nostri franco all'interno delle ceste. Avete visto? Che ci hanno droppato. Un paio di funghi. Ok. Cucatelo tutto ciccio. E l'altro lo diamo. Ah. Quest'altro franco. Così. Finalmente. Riusciamo a sbloccare degli elementi decorativi per il nostro treno. Forse ho capito dove si trovano. Qui là. Ok. Quindi sono abbastanza strani. Franchino. Cos'altro mi dai tu di bello? Vediamo un po'. Wow. Ma la cosa più utile mi hai dato franco. Che succede? Tizio. Te non ti devi muovere da solo. Ogintanto sto tizio si sminchia. Ok. Questo vuol dire che adesso possiamo recuperare le profezie. Che sicuramente mi porteranno un chiurlo di proporzioni bibliche. Che voi neanche ci avete idea. Di nuovo. Spazio esaurito. Sì. Ma sono profezie brutte brutte brutte. Praticamente possiamo ridurre del 10% la velocità di nuotata nel vuoto. Sì. Ma che due maroni. Dai. Aumentare del 15% la frequenza degli attacchi degli squali. Non è un grande problema. Aumentare del 55% la probabilità di trovare delle mine lungo il percorso. Aspè. Ci possono essere delle mine esplosive. Questa non lo sapevo. Allora. Per adesso vediamo di mettere qui. Dov'è quello dello squalo? Eccolo qua. E peraltro aumenterà la quantità di legno che troviamo nel vuoto. Ah. Ma ce lo dice il lato positivo. Qui invece possiamo trovare più oggetti nel vuoto. Oppure possiamo trovare più ghiaccio sporco e più materiale organico. Senti. La legna ancora ancora fa comodo. Le altre per adesso le lasciamo lì. Sperando che non ci si ritorca contro. Senti. Droppami qua le profezie. Abbiamo anche trovato degli strani semi e dei semi di tè. Cosa mi faccio? Mi faccio il tè alle 5. E ho capito che è molto british tutto ciò. Ma io tecnicamente sono tedesco. Allora. Vediamo. Non io delunghimer. Io personaggio del gioco. Perché poi la gente riesce a trovare verità nascoste letteralmente dovunque. Ok. Mettiamo anche il seme del tè direttamente qua. Perfetto. E non ci resta che attendere. Praticamente 3 minuti. Dato che non abbiamo ancora craftato il fertilizzante fino adesso. Inoltre devo ringraziare il signor panda. Uno degli assistenti dell'assistente. Che si è messo anche lui a giocare a Void Train. E mi ha detto finalmente. Oh marone buongiorno signore. Dove stanno le opzioni decorative? Dovevo cliccare sul martello. Non ci avevo fatto minimamente caso. Quindi in questo caso possiamo costruire delle barrierine. Oh ok. Quindi sono praticamente standard. Ne sbloccheremo altre mano a mano. Che andiamo avanti. Quindi possiamo metterne ancora. Uh molto elegante. E mettiamole anche qui a sto punto. Perfetto. Beh si sa mai che rischio di volare di sotto. No se precipiti potrebbe essere pericoloso. Qui invece abbiamo diverse opzioni. La cabina chiusa. Così è completamente aperta. Questa invece è quella luxury. Ehi lala. Per adesso fammi quella aperta 2. Oh mio dio. Oh aspetta aspetta aspetta. Devo andare a controllare assolutamente. Devo craftare altre viti. Oh. Oh ma buongiorno. Ha un aspetto molto serio. No c'è anche l'uscita di lato. Ma dai. Ma che figata. Adesso è un treno serissimo. Tanto io posso comunque saltare al di là. E chi si è visto si è visto. Adesso il mio treno sembra decisamente molto di più un... Beh treno. Ok. Che spettacolo. Allora datemi un secondo che crafto altri materiali. Perché in effetti è un peccato avere il resto del treno completamente aperto. Sì è più pratico quando precipiti dall'alto. Quindi vediamo un po' cosa possiamo inventarci. Non mi ricordo abbiamo sbloccato già la possibilità di espandere. No. Però adesso no. Quindi vediamo di ritornare da questa parte. Abbiamo un martello qua che... Oh. Quindi alcune le possiamo fare con le finestre. E altre invece completamente chiuse. Oddio con le finestre è un pochettino più open space. Devo dire che non sarebbe male. Aspetta aspetta. Ora mi sono ricordo che posso anche muovere la telecamera. Ok. Devo dire che non è male. Mi sarebbe piaciuto qualcosa semplicemente con dei finestrini in vetro. Però probabilmente sono cose che sbloccheremo mano a mano. Che andiamo avanti. Perfetto. Aspettate che non c'era bisogno di uscire dalla schermata. Altrimenti possiamo mettere una cosa più standard. Ok. Anche per alternare mi sembra giusto. Peccato che non ci sia modo di chiudere con delle pareti direttamente qua. Sarebbe stato decisamente molto meglio. Una zona la lasciamo aperta. E casomai richiudiamo da quest'altra. Per adesso ci accontentiamo. Non so neanche se sono migliorabili le varie strutture. Però per adesso aspetta. C'era la possibilità di lasciarlo tipo... Oh. Ok. Così non è male. Probabilmente ci possiamo anche difendere dagli attacchi degli squali del vuoto. Che treno dà l'aspetto molto trenoso in effetti. Beh signori rispetto a prima devo dire che il nostro treno ha assunto un aspetto completamente differente. E come dicevo non vedo l'ora di sblocchiare altre strutture. Sarebbe stato meglio fare delle aperture sopra eh. Mob dettagli. Ok. Ritorniamo indietro. Ah. Che spettacolo. Adesso ci sono anche gli effetti di luce. E tutto molto più serio. E vabbè. No ragazzi. Spero che ci saranno anche delle luci da aggiungere. È diventato un po' più claustrofobico. Questo è vero. Però non è niente male. Ma io posso uscire da qua di preputenza. Ah no. Potrebbe essere un po' un problema uscire in direzione del vuoto. Ah. Gente. Ho scoperto cose. Posso avere il teschio dello squalo. Ape. 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 Cosa. 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 No. Ma mi prendi in giro. Tipo lo posso mettere lì. Ma è serissima sta cosa. Non so neanche quando l'ho strappato al suddetto squalo. Ma vabbè dettagli. Possiamo avere una scala. Aspetta. Ma è una scala funzionante. Aspetta un attimo. Le cose ci fanno interessanti. Tipo se io la metto qua. Posso effettivamente. L'ho messa dritta. Sì. Usarla per andare fuori. Ah. Ah. Ora funziona. Vabbè. Quando saremo nel vuoto non ho problemi di gravità. Però è un trucco molto semplice. Per saltare oltre quella specie di ringhierina. All'occorrenza abbiamo un comodino. E un tavolo. Normalissimo. Vabbè. Non ho bisogno di elementi estetici. Per adesso cerchiamo di risparmiare. Parte delle nostre risorse. Ah. Per la centonovantesima volta. No. I funghi. Non li possiamo piantare direttamente qua. Tuttavia. Cosa abbiamo ottenuto? Buongiorno. Del metallo. Ho raccolto una pianta che mi ha dato del metallo. E qui abbiamo delle foglie da te. Ok. Chi sono io per giudicare? Però sì. Spero di trovare delle luci quanto prima. Perché mi sta salendo la tristezza da stare qua dentro. Nel frattempo ho trovato altri semi di te. Perfetto. Quindi uno lo metti qui. E uno lo metti invece da quest'altra parte. Il gioco dice che ovviamente mi ci posso fare un te. Tuttavia. La nostra cucina di primo livello non mi permette di craftare un te. È perché è difficile craftare un te. Gente. Voi non avete idea? Lasciamo stare eh. Abbiamo fatto fuori uno sproposito di ringotti di metallo. Per fortuna che abbiamo ritrovato qua anche tanti pezzi di metallo. Ho messo peraltro il carburante di secondo livello. Quindi il nostro disinfettante. All'interno dello smelter di primo livello. Tuttavia pensavo che avrebbe velocizzato le procedure. E invece no. Probabilmente consumerà meno risorse. Ok. Perfetto. Vedo di recuperare un po' di materiali. Do un'occhiata sui nostri amici dipendenti di Trenitalia. Mi hanno droppato qualche risorsa utile. Beh una cosa è certa. Mi hanno droppato uno sproposito di armi. Purtroppo non abbiamo abbastanza spazio nell'inventario dice il gioco. E vabbè lasciami qua una parte del revolver. E chi si è visto si è visto. Come non c'è. Ah. Adesso ho capito. Adesso vedrete che immediatamente c'è spazio. Perché se non hai tre caselline adiacenti. Il gioco non te lo fa mettere. Uila. Questo è un bel caricatore aumentato. Mi domando se lo possiamo spostare su una delle nostre armi. Mentre cavavo le parti dell'arma gioco mi ha detto. Adesso non te la faccio più prendere. Ah. Grazie gioco. Sei molto gentile. Sì. Non me la fa più recuperare. Ah. Faceva finta di nulla gente. Ah. Ok. Ora è peggiorata. Gli ho rimesso le parti che prima avevo rimosso. E ora si è buggato completamente. Anche se premo E non succede nulla. Yeah. Viva l'accesso anticipato. Ok. Facciamo finta di nulla. Per quel che mi riguarda possiamo anche ripartire all'avventura. E chi si è visto si è visto. Parti. Parti ciccio. Buongiorno. Salve. Dovrei essere trascinato. Quando ho un secondo. Ah. Ok. Decisamente molto meglio. Allora. Vediamo caso mai di sbloccare qualche altro potenziale. Che succede? Ah. Buongiorno. Mi ha tipo bloccato all'improvviso. Ah. Sì. Il teletrasporto. Non continuo a dimenticarti. Ok. Vediamo un po' dove stiamo per spuntare di bello. Qui là. C'è un buio pesto che non si vede praticamente nulla. Ah. Ok. Non si vede veramente un cocchio di nulla. Perfetto. Direi di procedere verso la prossima zona. Quindi adesso abbiamo anche sbloccato gli artefatti. Cosa molto ma molto interessante. Ok. Sappiamo molto bene. Un marrone che è scuro. Che entro breve lo squalo verrà a farci una bella visita. Allora. Possiamo anche rimanere in movimento. Tuttavia adesso abbiamo un problemozzo nuovo. Dato che abbiamo praticamente chiuso le varie cabine. Non riuscirò più a individuare facilmente alcuni elementi. Come ad esempio quelle strane trutture sferiche. Che mi permettono normalmente di capire quando c'è effettivamente un... Un nido lì come cocchio si chiama sui binari. Quindi abbiamo un problema nuovo purtroppo. Franco non individua nulla. Eccolo lì che è già arrivato. Sapevo io. Ok. Vediamo di eliminarlo. Prima che diventa... È un problema troppo grande. Ma hai fatto cagare in mano. A te c'hai la nonna trota. Oh no. Allora. Aspetta un secondo che vedo di fermare il treno. Sì ma non si vede nulla adesso. Ok. Vediamo di uscire là fuori. Dove puoi andare? No vabbè gente. Ora che siamo di notte è allucinante. Guardalo. A malapena riesco di intravederlo. Ok. Usiamo ancora una volta me stesso come esca. Ciao piccolo stellino. Avvicinati. Dopo ce l'abbiamo ancora in modalità. Lancio a granate. Quindi. Ehi lalla. Pezzo di erba. Devo essere abbattato vicino per riuscire a fargli male. Eccolo. Eccolo. Si mantiene a distanza maggiore. Quest'oggi non so perché. Purtroppo non posso sperare di riuscire a seminarlo con il treno che abbiamo detto. Ehi. Ehi. Mi hai già danneggiato abbastanza quella cocchia di piattaforma. Dai. Franco secondo me ce l'ha con te. Vuole popparti. E non sono completamente contrario all'idea. Aspetta. 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 Ricarica. Ok. È praticamente morto. Ancora un paio di colpi. E... Ok. Finalmente è deceduto. Franco. Mi hai colorato il pavimento di viola. Ma porche di quella suprema porca. Un maronne. Si vede da traerso. Per un secondo mi sono spaventato. Aspetta che rimettiamo velocemente il pavimento. Come non fosse accaduto nulla. E soprattutto ripartiamo all'avventura. Troppi porchi gente. Sì. Decisamente. Troppi porchi. Allora. Dobbiamo craftare un po' di gomma. E dobbiamo per forza utilizzare l'acido. E anche delle parti in resina. Eccolo qua. Perfetto. Così potremo sbloccare anche la prossima ricerca. È tutto così buio qua dentro. Ma che cocchio. Ecco qua. Richiederà un minuto. E 40 secondi. Ok. Per fortuna dovremmo avere abbastanza carburante. Aspetta che tengo comunque gli occhi aperti. Me lo sentivo. Me lo sentivo. Me lo sentivo. Aspetta. Aspetta. Oh. Ragazzi. Abbiamo strarischiato stavolta. Abbiamo rischiato veramente uno sproposito. Franchino. Ma se ti metto qua da... Cos'è? Ah ok. È il checkpoint. Mi sono cagato in mano. Ricordiamoci che adesso tecnicamente gli squali dovrebbero attaccare con maggiore frequenza. Dato che abbiamo messo la nuova profezia. L'unico dato positivo è che le luccele sono più facili da individuare. Per quanto questa zona è decisamente molto molto strana. Guarda neanche detto. Ecco qua le luccele. Allora vediamo di fermare il treno. Aspetta. Treno. Fermati. Che cosa buona e tanto giusta. Vabbè. Ma non sono luccele normali. Non mi direi che c'è una risorsa qua dietro? Vediamo un po'. Aha. In effetti ho trovato del ghiaccio. Tanto ghiaccio. Ho scoperto inoltre che se vado sul tetto del treno ci posso... Ole. Camminare. È come se ci fosse gravità normale per ora. Perfetto. Datemi un secondo che c'è roba lì. Ovviamente c'è roba. Perfetto un secondo. Mettiamo qua tutto il ghiaccio. E non mi lascia creare. Ah non c'è spazio. Aspetta. Devi prendermi quello. La water bydon. E ora mi puoi captare il ghiaccio? Grazie. È molto gentile da parte sua. Allora. La gomma. Ok. Mi serviva effettivamente per la trazione di secondo livello. Avremmo dovuto fare la ricerca quando eravamo ancora in stazione. Ma vabbè dettagli. E poi praticamente ci servono le molle lì. Le sospensioni. Come cocchio si chiamano. E per craftarle ci vuole... Ah sì. La ratoga il silicone sigillante. Ora ricordo. Ok. Nel frattempo mi sono messo a craftare anche gli ammortizzatori. E poi dovremmo avere tutto il necessario. Purtroppo per adesso non riparto. Vediamo giusto di recuperare un po' di risorse in giro. Rampiniamole anche se possibile. Gioco. Buongiorno. Rampino. Ma non ti avevamo potenziato? O mi sbaglio io? Non ti sento molto potenziato. Vabbè. A parte che la corda mi sembra anche più corta del solito. Vediamo un po'. Aspetta zinco. Che mi serve per l'ottone. Ah. Assolutamente. Ah. Che casino. Ammetto. Bello il nuovo treno. Ma mi sta un po' complicando i movimenti. Le carrozze aperte. Decisamente. Come ho detto prima. erano un bel vantaggio. Ok. Dovremmo avere tutto il necessario. Recupera il prodotto. Ritorniamo da questa parte. Sto facendo una confusione assurda. E finalmente abbiamo anche la trazione di secondo livello. Quindi vuol dire che nel prossimo episodio potrò prolungare di un altro piattaformina. Questo cocchio di vagone. Che cosa è buona e tanto giusta. Ciccio. Per la possibilità ti crafto un supportino. Un nido e tutte cose. Porta pazienza che è una giornata difficile. Ah sì. Il fertilizzante. Si crafterà probabilmente al banco chimico. Immagino. E... No. Non è qui. Aff. Forse al laboratorio chimico di primo livello. Vediamo un po'. Consumabili. Ah. Fertilizzante. Mi richiede un'unità di carne. E un'unità di componenti organici. Aspetta. Ne avevo. Qui. Che cosa buona. È tanto giusta. Aspetta che dobbiamo recuperare intanto questi. C'ho il personaggio che si muove in maniera strana. Ma vabbè. I dettagli. Ed ecco qua. 50 secondi di attesa. E avremo il fertilizzante per i nostri campi. Ok. Ci è voluto più tempo del previsto. Abbiamo sì il fertilizzante. Ritorniamo al banco per le ricerche. E sblocchiamo. Oh. Finalmente anche la crescita accelerata. Maronne il gioco. Ma l'hai fatta soffrire. Perfetto. Ora le nostre piante cresceranno alla velocità della luce. Senti. Vediamo di realizzare il sogno del nuovo Franco. E pertanto craftiamo un altro nido dei roflimo. Mi serve giusto un po' di filo di rame. E delle viti. Ok. Viti qua. Filo di rame. Sta qua sotto. Più che altro sono curioso di scoprire se questo Franco 4.0 abbia delle nuove abilità. Ecco qui. Adesso ovviamente mi rompe le scatole perché c'è già Franco nell'angolino. Quindi butta qua il nido. Piccolo Franco. Ah. E' anche più carino degli altri. Dove poi è finito? Buongiorno gioco. Sbutalo lì. Perfetto. E fai le stesse cose che fanno tutti i tuoi colleghi. Però hai una colorazione carina. Ah. Almeno questo è un lato positivo. Ohi. Pio Pio. E basta. Ero per le scatole. Perché adesso quando curvano? Quando hanno imparato a curvare? Questa è nuova? Ma vabbè. Dettagli. E nel frattempo. Oh. Abbiamo sbloccato le ricerche per l'armeria di secondo livello. Le munizioni speciali? Mi sa che possiamo forse avere dei proiettili esplosivi. La cosa si fa interessante. E la polvere esplosiva. Oh. Il prossimo episodio abbiamo un sacco di cose che ci permetteranno di fare molto più male a questo mondo. Possiamo ripartire nel frattempo. Gioco. Grazie. Molto gentile. Dato che quella non era una lucciola e a sto punto non abbiamo un motivo per restare in zona. Però sì. Se non fosse per la luna. Beh. Chiamiamo la luna che emette una discreta quantità di luce. E per il nostro treno che ha un faro potentissimo. Non riusciremo a vedere praticamente nulla. Oh no 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 no. Gioco. Basta. Non di nuovo l'arena. Ok mi permette di ottenere delle ceste ma devo passare un'ora e mezza a sparare. Porca di quelli per porca. Alle creature del luogo. Che faccio? Mi fermo? Potrei anche cercare di ottenere un'altra ceste ma... No dai per adesso tiriamo dritti. Tiriamo dritti. Non importa. Non c'è fitta di nulla. Non sono arrivato in tempo alla levetta. Che peccato. Non funziona. Sto premendo E. Ma no. E niente. Sarà per la prossima volta. Giuro eh. Stavo premendo E ma popona cifra. Lo stavo spammando quel tasto. Vediamo anche di recuperare un po' di risorsine perché abbiamo sprecato l'infinito e oltre in sto episodio. Credo sia effettivamente la puntata. Con quanto lag non me lo dici? In cui abbiamo effettivamente utilizzato più risorse. Eh. Treno. Treno rallenta. Treno rallenta. Ok. Vediamo di stare sopra la locomotiva. A parte che non ho mai provato a saltare qua sopra. Mmm. Che buona rietta che si respira. Un'altra cosa di incredibile. Aspetta che se dobbiamo fare il fertilizzante ci serviranno un sacco di risorse organiche. Teniamo fuori il rampone. Ramponizzalo tutto. Vai. Perfetta. Perfetta. Perfetta rampone. Rampone anche quello. Perfetto. Aia. Cos'è che mi sono preso? Ho sbattuto su qualcosa o mi hanno morso? Per un secondo mi sono caccato. Credo fosse di nuovo quel buio di squalo. Mi sono sbattuto semplicemente su uno dei vari detriti. E chi più ne ha più ne metta? Aspetta un secondo. No. Legna. Le. Ah. L'ha presa comunque. Anche buccio di chiurlo. Però sì. Mi stai mettendo l'ansia. Era come se il rampino si agganciasse in automatico alle varie risorse. Fermoli. Fermo. Treno. Treno. C'è un treno. Aspetta. Devo tornare indietro. Ciocco. Prima di arrivare al prossimo checkpoint. Oh. Non riesco a salire a bordo. Vi giuro. Non riesco a salire a bordo. Sto appistando via la velocità della luce. Aspetta. 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 Gira la leva. Ye ye. Ah. Ah sì. Beh. Forse era meglio tirare anche l'altra. Poi fai ripartire tutte cose. Se mi spawni il checkpoint ti picchio male. Vedo un checkpoint laggiù. Parco cane lo vedo. Mi sa che sono arrivato troppo tardi. Aha. Gente. Siamo fortunati. Ecco lassù il vagone. Quindi possiamo raggiungerlo senza nessun problema. Ciccio. Te fai rumori brutti come i tuoi colleghi. Sta cosa non mi piace proprio per niente. Non so neanche cosa succede se sbatto sul checkpoint. Ma vediamo. Casomai di non scoprirlo. Willa. Questo è completamente ricoperto. Non è una locomotiva. Come quella che abbiamo già incontrato. Lo scorso episodio. Quindi tira uno. Tira due. E per adesso. Vediamo di. No. Ho detto frena. Ah eh. Mi ero caccato. Buono signori. Io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo daremo anche un'occhiata all'interno di quel treno. E proseguiremo. Prego eh. Compenetratevi tranquillamente col mio treno. Tanto chi se ne frega. Dicevo. E vedremo di esplorare il resto del vuoto. Alla ricerca di nuove tecnologie. Che ci permettono di sopravvivere. E di migliorare il nostro meraviglioso treno. Che spettacolo. Però gente. Che spettacolo. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace. Altrimenti non vi faccio l'upgrade del treno. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.